Ciao a tutti, buongiorno, ci troviamo nelle colline emiliani oggi per la seconda world premiere di Ducati, una serie di world premiere che ci porteranno fino ad arrivare a EICMA 2023. Inutile dirlo, la protagonista di questa seconda premiere è lei, la multistrada V4S Grand Tour. Deriva dal modello Grand Tour del 2019, infatti potete notare gli stessi colori, ma una differente livrea. Lei è piena di novità tecniche e soprattutto anche tecnologiche, quindi state con noi perché ora vi raccontiamo com'è nel dettaglio, dopodiché vi racconteremo anche come va la nuova crossover di Borgo Panigale. Grand Tour è il nome del nuovo allestimento per la multistrada V4S, che quindi esteticamente resta invariata ed anche motore e ciclistica non cambiano. Tutta nuova invece la livrea, che riprende i colori della Multigrand Tour del 2019, ma con accessori e parti della ciclistica in nero. Ma le novità non si fermano qui, novità tecniche rivolte soprattutto al miglioramento del confort di marcia, ereditate dalla multistrada Enduro e riportate su tutta la gamma Multistrada 2024. Infatti delle prese per migliorare il flusso di aria fresca verso le gambe del pilota, utili d'estate, e richiudibili d'inverno, che assieme alle paratie laterali in plastica cercano di contenere il calore del potente V4. Eliminati anche i seal and blocking gomma dalla piasta del manubrio, per avere un miglior feeling nella guida e sentire meglio l'avantreno. Invariata l'ergonomia, con la sella regolabile in due misure, cioè 83 o 86 cm da terra, è il serbatoio del carburante, sempre da 22 litri, ben sagomato per ospitare le gambe del pilota. Confermatissimo il V4 di 1158 cm3 da 170 CV e 125 Nm di coppia massima, così come il traio monoscocca e il forcellone bibraccio in alluminio. La forcella, costelli da 50 mm e il mono ammortizzatore, sono completamente regolabili e gestiti elettronicamente dal sistema Skyhook. Completano la ciclistica i cerchi in lega leggera, anteriore da 19 e posteriore da 17, mentre l'impianto frenante è sempre l'efficace Brembo con pinze stilema, monoblocco e dischi da ben 330 mm di diametro. La multi V4S Grand Tour si guadagna anche il primato della Ducati più evoluta tecnologicamente, con il pacchetto elettronico più completo dell'intera gamma della produzione bolognese. A tutti i controlli di ausilio alla guida gestiti dalla piattaforma inerziale, la V4S GT aggiunge il radar anteriore e posteriore che permette l'utilizzo del cruise control adattivo e del blind spot detection, che segnala la presenza di un veicolo nell'angolo cieco attivando una luce sullo specchio retrovisore. Tantissime poi le informazioni, fornite dallo schermo TFT da 6,5 pollici a colori, regolabile su quattro inclinazioni, con mappa dinamica di navigazione e naturalmente connesso allo smartphone, attraverso il sistema Ducati Connect. Full LED l'impianto luci, arricchito dai faretti supplementari, compresi nell'allestimento della Grand Tour. Saliamo in sella e ritroviamo la posizione di guida comoda e l'ergonomia azzeccata che già ben conosciamo. La sella accogliente e regolabile, la giusta altezza da terra e il manubrio largo rendono la crossover bolognese adatta a piloti di ogni statura. Una volta in marcia, dopo pochi chilometri, iniziamo ad apprezzare i nuovi condotti dell'aria che rinfrescano le gambe del pilota, rendendo la convivenza con il V4 meno difficile, ma la giornata è calda e nelle soste al semaforo il calore torna a farsi sentire. Regolabile manualmente anche in marcia e con estrema facilità, il cupolino ripara bene e non crea vortici d'aria fastidiosi alla testa del pilota. Il V4 spinge forte ad ogni regime, ma grazie ai riding mode che ne mutano il carattere riesce ad essere trattabile, pur mantenendo grande prontezza all'apertura del gas con qualsiasi mappa selezionata. Nonostante l'allestimento da vera Globetrotter, la Grand Tour tra le curve mostra tutto il DNA sportivo della casa di Borgo Panigale. Ciclistica svelta, sospensioni a punto con il plus del controllo elettronico e il bicilindrico sempre pronto a estrarre gli artigli, permettono di guidare la multi come una sportiva tra le curve, veloce nello scendere in piega, rigorosa e sempre stabile. Solo nei rapidi cambi di direzione e sui tornanti più stretti, i 240 kg in ordine di marcia della Grand Tour si fanno sentire, richiedendo maggior movimento sulla sella e forza al manubrio, manubrio che, privato dei silent block, vanta un feeling maggiore con l'avantreno, ma qualche vibrazione in più purtroppo si avverte. Durante la guida abbiamo poi potuto apprezzare le funzionalità dei sistemi elettronici rivolti alla sicurezza, soprattutto nei trasferimenti autostradali, come il radar e il cruise control adattivo, sistemi che uniti all'elevato confort di marcia permettono a pilota e passeggero di viaggiare in sella alla Grand Tour, davvero in prima classe. La produzione della nuova Multi V4S Grand Tour è già cominciata, quindi la troverete dai concessionari già alla fine di settembre o al massimo i primi giorni di ottobre, a un prezzo da Ducati, 27.590 euro in quest'unica colorazione. Per noi oggi per Insella è tutto, per questa seconda World Premier di Ducati noi vi salutiamo e noi ci vediamo alla prossima prova. Non dimenticate chiaramente di mettere un like qua sotto a questo video se vi è piaciuto, iscrivervi chiaramente al nostro canale YouTube e seguirci sui nostri social e sul nostro sito insella.it e naturalmente anche in edicola dove troverete le prove complete con rilevamenti e dati tecnici e quant'altro. Noi ci vediamo sicuramente alla prossima prova. Ciao!